I see them marching off to a wall They're looking so heroic I know they won't be gone for the law But the lion they know it And vows La vita o solo un'altra vita Il volo di un eterna istante Il mio cuore si aviace Buonasera amici di SanMangoRadio.net La tua radio Eccoci di nuovo in studio questa sera per una nuova puntata del programma A tu per tu con la prevenzione Dopo i grandi successi che stiamo riscuotendo in giro e anche sul digitale terrestre sul canale 687 di MSTV Continua così la nostra trasmissione Questa sera abbiamo un ospite un po' particolare che a volte è qui con noi a fare delle domande ma stasera sei nella veste di intervistato, di ospite Ciao Danilo Buonasera dottor Danilo Trimini Come stai? Bene, benissimo Allora io sto bene Colgo l'occasione per fare prima i saluti e i doverosi ringraziamenti Quindi un ascoltatore particolare ce l'ho in mio segreto stasera a casa che è l'Eleonora che mi ascolta Comunque saluti davvero affettuosi a tutti gli ascoltatori di SanMangoRadio.net e un grazie particolare all'Associazione Gioveni Ripartiamo dal Sud che mi ha invitato ecco di questo invito sono felicissimo grazie Carle Noi siamo contenti di averti qua sia come ospite sia come co-conduttore nelle scorse puntate con noi ma non dimentichiamo che Danilo è un grande amico dell'Associazione Gioveni Ripartiamo dal Sud è sempre pronto a darci una mano ed è sempre pronto ad aiutarci Infatti è da poco finita all'interno della sua farmacia la seconda edizione della prevenzione arteriosa Di che cosa abbiamo fatto? Praticamente Danilo Gioveni ha dato la possibilità a tante persone di SanMango di misurarsi la pressione all'interno della sua farmacia a titolo gratuito e da quei valori noi li abbiamo portati al cardiologo Giovanni Paolo che ha visto in base alla pressione quali sono stati i risultati se la gente è possibile ha delle problematiche cardiache ma facciamoci spiegare meglio da Danilo com'è andata se la gente ha partecipato e se ci sono dei valori che ti hanno un po' preoccupato Allora la settimana è stata molto proficua è stata proficua perché comunque chiaramente quando si offre un servizio di questo tipo chiedo scusa ecco alla popolazione la popolazione mostra sensibilità attenzione e voglia di partecipare è chiaro quindi offrire un servizio come la misurazione della pressione che nelle farmacie italiane comunque si fa praticamente dappertutto serve per permettere un monitoraggio di quello che è come dire il rischio l'entità del rischio statisticamente parlando su un bacino d'utenza molto vasto allora che cosa è venuto fuori? è venuto fuori da questa settimana che comunque tendenzialmente ci sono numerose persone che non hanno frequentemente misurato la pressione innanzitutto non hanno un buon controllo della pressione arteriosa e alcuni ecco alcuni poi alcune persone alcuni clienti alcuni pazienti hanno poi ricevuto l'invito a consultare il cardiologo di fiducia quindi il dottore Paola nello specifico per ecco una valutazione più professionale più qualificata di quello che poteva essere un potenziale fattore di rischio l'ipertensione che cos'è? è un'alterazione dei parametri ecco diciamo della pressione ematica quindi della quella che normalmente tra amici chiamiamo massima e minima tali da comportare potenziali rischi per la salute a breve e o a lungo termine ottimo quindi diciamo che le persone si sono presentate in farmacie magari purtroppo come ben sai la prevenzione non finisce mai di stupirci lo so che non sei dottore non sei qualificato ma ti faccio una domanda veloce la pressione facciamo se ci stanno ascoltando e ci stanno guardando tante persone tanti vecchietti può dipendere anche da una cattiva alimentazione assolutamente sì ricordiamo che ci stiamo avvicinando nel periodo natalizio quindi al periodo feste al periodo di sagri qui in Calabria quindi uno dei periodi più caotici dell'anno sì vero assolutamente sì è chiaro che il contenuto diciamo dell'alimentazione il contenuto in sale in primis e grassi ha delle ripercussioni dirette su quelli che sono i valori della pressione ricordo ecco giusto a titolo informativo che l'organizzazione mondiale della sanità ha un pelo ritoccato quelli che erano i canoni che forse storicamente noi abbiamo sempre avuto in farmacia o dal medico come riferimenti quindi non non sono più i famosi 120 di massima e 80 di minima i parametri da ecco mantenere come riferimento ma addirittura l'organizzazione mondiale della sanità dicevo ha stabilito che la pressione va portata il più bassa possibile compatibilmente con il proprio benessere mi spiego è chiaro che se la tua pressione massima fosse 110 su 60 e tu ti senti in perfetta forma ecco quello è il parametro da cui non ti devi allontanare quindi il più bassa possibile rispetto al benessere è chiaro che se tu accento ai giramenti di testa non va bene quindi va portata un po' più su mi sono spiegato perfetto perfetto è bello perché la nostra trasmissione arriva a tutti quindi ma speriamo scusami ti interrompo non vorrei parlarti sopra speriamo di non essere noiosi no no sicuramente no poi siamo due belle presenze quindi la gente ci guarda anche per questo diciamola tutta diciamo la verità mi fai diventare rosso no innanzitutto colgo l'occasione anche per salutare la tua bimba che hai detto che è in ascolto ringrazio anche l'altra collaboratrice Graziella che è un pochettino assente in questi periodi però è in maternità quindi è in attesa del mio secondo genito della mia seconda genita quindi gli lancio un saluto anche io mi associo al saluto con la fede grazie ma torniamo a noi Danilo visto che tu fai il farmacista quindi scendiamo un po' di più nel tuo campo sì la pressione sì ma c'è un medicinale o che può aiutare a tenere bassa la pressione o è sempre meglio consigliato una vista specialistica cioè perché tante persone ormai la medicina è diventata un po' fai da te hai visto mi fa male la testa mi prendo l'aone mi fa male questo e prendo quello c'è un po' di fai da te c'è una medicina che possiamo assumere liberamente per un controllo o magari bisogna sempre andare dietro a una ricetta medica allora siccome ti ringrazio per questa domanda perché è molto interessante siccome il tuo programma si chiama prevenzione è giusto aiutaci e in un piccolo centro come San Mango la prevenzione allora la prevenzione in un piccolo centro come San Mango e i paesi a lui vicini è difficile da realizzare perché usando un'espressione che tu hai usato poco fa secondo me c'è tanto fai da te da mettere in gioco quindi sicuramente sicuramente è un controllo periodico dei valori pressori quindi della pressione arteriosa per esempio della glicemia e dei livelli di colesterolo si può realizzare ormai facilmente anche in ambito domestico perché comunque al di là del costo di questo tipo di controlli riesci ad avere un quadro generale di massima del tuo stato di salute con pochi semplici click con pochi semplici click quindi la prevenzione allora tornando allora perdonami quindi sei l'ospite tu puoi fare quello che vuoi stasera ti ringrazio però per quanto riguarda la ecoprevenzione diciamo che i passaggi che io sintetizzerei per gli ascoltatori sono essenzialmente pochissimi il primo di tutti è quello di fare un'alimentazione secondo dieta mediterranea la varia è validissima dieta mediterranea ora ci avviciniamo al periodo del maiale del natale eccetera eccetera su San Mango qualche pelo mi si alza come brivido però siccome le bontà sono fatte per essere mangiate capisco perfettamente quindi l'alimentazione sicuramente importante poi tu da buon ciclista mi puoi dire il movimento e confermi sì sì assolutamente sì benissimo anche se ultimamente sono un pro sovrappreso ma piano piano posso aspetta continuo giusto un istante continuo giusto un istante quindi il movimento quindi anche la passe la semplice passeggiata a passo veloce fatta con continuità e con costanza è un grossissimo aiuto e poi chiaramente ci sono come dire svariati tipologie di controlli di farmaci e di altre situazioni che si possono mettere in atto per approfondire o meglio ecco conoscere il proprio stato di salute però non è il nostro caso noi parliamo di prevenzione quindi direi un controllo periodico con cadenza settimanale bisettimanale in base alla propria situazione personale della pressione con una misurazione della glicemia e dei valori di colesterolo e trigliceridi penso possa bastare quindi hai fatto hai detto una cosa importante che a volte viene sottovalutata il peso nella pressione arteriosa è importante è fondamentale il peso lo è sicuramente perché una situazione di sovrappeso ha delle dirette ricadute sui valori pressori ed è un circolo vizioso se vogliamo perché chiaramente chi è in sovrappeso vuol dire che comunque ha sicuramente scarso movimento dalla sua e dall'altro una iperalimentazione questo comporta sicuramente dei valori pressori alterati e o dei valori ematici alterati come la glicemia e ipercolesterolemia bello mentre parliamo è bellissimo perché il bello della diretta è anche questo come sai noi siamo in diretta quindi la gente ci sente la gente ci ascolta e la gente ci fa delle domande vedi subito dai e vai mi è arrivata una domanda e dice cavo dottore i farmaci domestici lei ha citato i farmaci domestici quali sono e se sono accessibili a tutti il problema economico c'è sempre Danilo quindi purtroppo allora per quanto riguarda il problema e quindi la gestione e il controllo dell'ipertensione arteriosa non è ecco non è una branca della medicina che è demandata al cittadino quindi se parliamo di ipertensione il cittadino il paziente il mio cliente deve necessariamente sottoporsi a un controllo medico perché i farmaci per la gestione e il controllo della pressione arteriosa sono innanzitutto da vendersi dietro presentazione di ricetta medica perché la varietà di farmaci la loro forza la loro attività è tale e tanta tra virgolette ecco da demandare al medico il compito di prescrivere in funzione dell'entità e della tipologia di ipertensione in trattamento le categorie di farmaci per il controllo della pressione arteriosa sono non dico migliaia perché penso di non sbagliare però quindi sono veramente tanti in tantissime categorie ora non stiamo qui ad approfondire diciamo la parte medica ma si va dal diuretico piuttosto che al calcio antagonista cioè si passa per svariate tipologie che il cardiologo in primis prescrive in funzione di quello che è il bisogno della persona da trattare bello ti leggo anche la seconda domanda forse un po' più bizzarre e mi dice scusami per inciso perdonami poi me la leggi sono curioso però vorrei dire una cosa che comunque l'ipertensione arteriosa salvo piccoli piccole molecole che sono poco utilizzate comunque i farmaci per la gestione sono comunque appannaggio del sistema sanitario nazionale quindi comunque in regime di mutua per usare un'espressione conostrana di conseguenza praticamente gratis per il cittadino perfetto allora il signore ha fatto una domanda un po' bizzarra che secondo me da specialista da farmacista può rispondere dice la differenza tra mesulid e aulin rispondiamo a tutti questo è bellissimo mi rispondi tu e mi dice mi hanno prescritto io ho sempre un dolore di testa posso prendere un aulin o una mesulid qual è la differenza dottore allora Carmine si diverte a scegliere a selezionare le domande tra quelle che più sono punzecchianti allora senti la differenza non esiste la differenza non esiste non nei due nomi commerciali di cui parlava l'ascoltatore in realtà la legislazione italiana prevede che la vendita quindi tramite le farmacie delle sostanze medicinali quindi delle forme farmaceutiche più diverse avvenga in un regime di concorrenza per cui la legislazione italiana prevede che ci siano più case farmaceutiche a produrre lo stesso farmaco questo per evitare monopolio assoluto della vendita quindi nello specifico Aulin e Mesulid sono due nomi che ormai sono nell'immaginario collettivo anche i neonati conoscono questi due nomi ti blocco un attimo è così voglio un attimo concludere non dimenticare quello che mi volevi chiedere nello specifico parliamo di due marchi detti brand due farmaci di pari livello pari qualità non stiamo parlando di equivalenti stiamo parlando di due nomi commerciali famosi e pari marca pari qualità quindi sono del tutto identici perfetto io sono un appassionato di facebook sono sempre su facebook leggo tante notizie su facebook e leggevo tempo fa che una di queste due farmaci senza fare il nome dici che è dannoso allora e vevo c'è una diciamolo si parla che l'aulin è dannoso allora non è l'aulin se puoi rispondere non è che poi domani abbiamo una causa delle case farmaceutiche facciamo pagare ad angelo tanto è lui il proprietario della radio concordo sul fatto che paghi angelo assolutamente poi per quanto riguarda il resto allora ti rispondo molto facilmente ebbene l'aulin è sotto inchiesta è sotto inchiesta da molto tempo allora non è l'aulin che è sotto inchiesta è la nimesulide che è il principio attivo contenuto nell'aulin quindi che sia il brand aulin o mesulide o nimesulide della ditta X di equivalenti quindi la nimesulide è sotto inchiesta è sotto inchiesta perché comunque si è visto nell'uso continuato e protratto della sostanza che comunque è causa di gravi danni al pegato in Italia continua ad essere in commercio perdonami ti porgo una piccola chicca professionale ottimo continua ad essere in commercio per un motivo semplicissimo perché l'aulin nato come farmaco antireumatico quindi come farmaco antinfiammatorio non cortisonico per la gestione delle patologie degenerative tipo l'artrosi eccetera eccetera quindi nato come farmaco per il controllo di patologie a lungo termine in Italia in realtà si usa come dici tu mi fa male la testa prendo l'aulin quindi l'uso errato che fa il cittadino italiano dell'animesulide ha fatto sì che ancora non sia scattato quel provvedimento di sicurezza di ritiro dal mercato se qualunque medico ne troverai facilmente conferma se un dottore dovesse prescrivere un antinfiammatorio a lungo termine a un paziente sicuramente non prescriverebbe l'aulin adesso te la faccio io la domanda quindi stiamo un po' svaviando ma stiamo svariando dalla prevenzione va bene va bene l'importante è che non annoiamo gli ascoltatori no no non si annoiano è una cosa molto bella secondo me quindi quando si fanno più domande la gente ci guarda se no poi cambia canale sembriamo quelle di medicina 33 invece noi per inciso hanno cacciato via quel povero Luciano Onder e ora vado io senti una domanda di solito nei piccoli paesini c'è un'usanza non so se è qui a San Manco quindi non me ne voglia quando il dottore prescrive 3-4 medicine è vero che ne prendono due una la lasciano c'è quest'usanza anche qui a San Manco è un'usanza che si usa molto e i farmaci che ti prescrive il dottore vanno presi tutti o qualcuno si può saltare allora mi dai con questa domanda l'occasione per ricollegarci anche al discorso del trattamento dell'ipertensione perfetto benissimo quindi la risposta è no non si può modificare in maniera autonoma indipendente la terapia che ti affida il tuo dottore o piuttosto il tuo specialista quindi non si può assolutamente modificare non posso neanche io come farmacista io sono un controllore verifico la proprietà prescrittiva sì ma non posso contestare né modificare alcunché delle prescrizioni allora tornando un passo indietro è vero purtroppo c'è questa usanza ma credo nazionale non solo nell'eco di San Mango dei nostri paesini c'è purtroppo una propensione comunque a ritoccare la terapia specie nel caso in cui la terapia sia basata su più farmaci questo perché allora c'è innanzitutto una ritrosia iniziale io non so se ti è mai capitato con qualche amico sicuramente la prima volta che ti viene prescritto il farmaco per l'ipertensione tu ti presenterai da me e mi dici guarda ma devo prenderla per forza posso ho la speranza di poterla lasciare un giorno ho la possibilità che dici che un giorno possa farne a meno eccetera allora diciamo che la risposta è no quando ci si mette in terapia per l'ipertensione è perché un dottore ha reputato necessario il bisogno di un farmaco per mantenere la tua pressione il più bassa possibile compatibilmente col tuo benessere detto questo effettivamente io lo riscontro frequentemente in farmacia a San Mango purtroppo c'è la propensione a lasciare qualche compressina di quelle un po' più fastidiose che sono quella del pomeriggio quella che magari ti fa fare un po' più di diciamo urina perché purtroppo tanti farmaci sono ecco diuretici quindi hanno comunque una componente diuretica stimolando l'eliminazione di liquidi e quindi ci si mette in condizione di alterare la terapia di alterare i risultati e la qualità della vita allora innanzitutto io leggo un altro messaggio che oggi tanti messaggi Danilo vuol dire che è attivicente speriamo che grazie è un onore è un piacere allora ci scrive il dottor Giuseppe il signor Giuseppe e ci chiede Danilo da farmacista perché ci prescrivono l'antibiotico se viene considerato un farmaco contro la vita Carmine allora facciamo che la prossima volta la domanda la scelgo io tra quelle che leggi senti allora l'antibiotico è un farmaco bello bello perché stiamo parlando un po' di tutto quindi abbiamo parlato dell'impertensione adesso stiamo affrontando il tema antibiotico anche perché se tu entri in alcune modi lascia stare la domanda che è importante però se si entra in qualsiasi studio del dottore c'è scritto questa cosa qua l'antibiotico prendila con cura è vero o bugia però ce ne danno tanti da farmacista come la vedi questa cosa aiutiamo questo signor Giuseppe che cosa gli diciamo antibiotico è ineccepibile funziona anti-bios quindi contro la vita è chiaro che la nostra scommessa qual è è andare a come dire lottare la vita di chi ci è ostile non la nostra quindi ecco la come dire il termine antibiotico si riferisce all'attività della sostanza di uccidere i batteri e solo i batteri che comunque stanno causando una patologia una patologia quindi che può essere la tracheite piuttosto che la bronchite piuttosto che la consillite o comunque qualunque altra infezione affligga il corpo umano è chiaro che quando si arriva a prescrivere un antibiotico c'è evidentemente un fenomeno infettivo in atto e il dottore reputa necessario ecco utilizzare un farmaco del genere per tenere sotto controllo e far sparire la malattia io non trovo nulla di strano nell'uso dell'antibiotico trovo strano l'abuso dell'antibiotico perché come tu parlavi di Aulin Mesulid prima ecco ci sono poi antibiotici di cui si fa abuso si fa abuso perché comunque ecco c'è la propensione anche lì a fare le scorte a casa che è una cosa sbagliata e soprattutto con l'antibiotico non dovrebbe neanche capitare perché le confezioni di antibiotico che sono in commercio sono tutte come dire regolate affinché la terapia abbia un inizio e una fine ben precisa di solito cosa succede che il paziente interrompe prima la terapia tiene da parte due io sono uno di quello ecco due tre compresse nell'armadietto magari al primo colpo di tosse che farai fra 15-20 giorni un mese vai lì e prendi una, due, tre compresse ricordiamo a tutti che io sono un cliente assiduo del farmacico per tutti i problemi vado da Danilo è vero Danilo grazie è un piacere poter essere utile al di là della finalità commerciale che ha la mia attività insomma il bello è trovare poi persone che comunque ecco recepiscono il consiglio e fanno proprie le spiegazioni che magari ti chiedono l'ultima domanda l'antibiotico si vende solo su prescrizione medica solo su prescrizione medica e il mio consiglio ogni volta è quello di iniziare la terapia e portarla a termine perché ti ripeto tutte le confezioni di antibiotico hanno un numero di unità posologiche fatte ad hoc per una terapia completa né scarsa né abbondante bene bene stiamo facendo una bella puntatina molto bella molto intrigante poi quando si parla di farmaci potremmo stare qui fino a domani mattina ti faccio una domanda da quanti anni sei nel campo farmaceutico allora io ti rispondo con grande chiarezza io sono nella farmacia di San Mango d'Aquino al lavoro dal primo luglio 1995 sono stato in affiancamento a papà che salutiamo tu papà che è grandi amici della mia famiglia grazie mi associo al saluto quindi sono invece titolare della farmacia dal 2006 1995 siamo nel 2000 quasi alle porte nel 2015 e sono passati tantissimi anni aiutami 2005 non è fare i conti con le mani quasi 20 anni sono 20 anni Danilo è cambiato il mondo sono cambiate tante cose sta cambiando un po' tutto il mondo è sempre in continua evoluzione non si ferma mai com'è cambiata la vendita dei farmaci negli ultimi 20 anni è cambiato è cambiata in maniera inenarrabile e i costi i costi sono lievitati o sono diminuiti tu parli di costi per quanto la farmacia la sanità si si dici un po' di tutto com'è cambiata la vendita delle farmacie com'è cambiata come hai visto l'evoluzione di questi 20 anni tu che la vivi in prima persona ogni giorno allora diciamo che l'andamento della farmacia rispecchia molto fedelmente e ahimè pesantemente quello che è l'andamento naturale del periodo di crisi dell'Italia in senso più generale quindi da un punto di vista di spesa spesa sanità la spesa sanitaria sta come dire crescendo in maniera lenta ma graduale quindi a livello nazionale la spesa per la sanità non conosce battute del resto per quanto riguarda invece la proprio il mio aspetto commerciale senza troppi misteri vi dico che purtroppo il volume diciamo d'affari della farmacia si mantiene direi costante direi costante a fronte però di una marginalità nettamente estremamente più bassa quindi io continuo a vendere lo stesso numero di pezzi ma continuo a guadagnare via via di meno molto francamente un esempio su tutti due grosse due grosse come dire novità che sono arrivate negli ultimi anni la distribuzione per conto per cui le regioni le regioni che ormai hanno ahimè il peso e l'onere della gestione della propria sanità hanno deciso di distribuire in maniera diretta in maniera diretta i farmaci più onerosi e importanti quindi quando tu Carmine vieni in farmacia con una prescrizione particolare io cosa ti dico guarda devo ordinare il farmaco alla farmacia ospedaliera la farmacia ospedaliera ce la farà avere perdonami ci avevate una domanda appunto su questa sulla farmacia ce la farà avere e noi te lo consegneremo nella mezza giornata successiva la seconda grande come dire batosta che ha ricevuto la farmacia è l'avvento dei medicinali equivalenti che nati per abbattere i costi a carico del sistema sanitario nazionale hanno comunque comportato una diminuzione dei prezzi fortissima a vantaggio del cittadino e a vantaggio soprattutto dello Stato devo dire la verità perché il cittadino ci ha guadagnato nettamente meno ci guadagna in maniera indiretta se lo Stato spende meno per la sanità ma sulla propria tasca devo dire forse ultimamente ecco la spesa è salita perché comunque ci sono tutta una gran parte di farmaci che non sono più in servizio sanitario nazionale quindi sono da comprare e ci sono tutta una valanga di integratori e prodotti di largo consumo che comunque non essendo mai stati a carico del servizio sanitario nazionale subiscono gli aumenti di prezzo che ciclicamente affliggono biennalmente ti dico la farmacia ti faccio l'ultima domanda ormai siamo quasi al termine della trasmissione è stata penso per i nostri amici telespettatori un'altra puntata di interesse un'altra puntata dedicata alla prevenzione e per fare capire l'importanza del farmaco perché a volte una persona prima di fare prevenzione deve anche capire ciò che ingoia ciò che prende quindi anche questa è stata una bellissima puntata ti faccio l'ultima domanda quindi e poi mi posso rilassare poi dopo sì sì poi facciamo i saluti finali penso che sia stata anche oggi una bellissima puntata quindi ti aspettiamo la prossima volta da sto lato a bombardare di domande i nostri ospiti va bene si parla di liberalizzazione di medicinali cioè ormai anche qualsiasi tipo di negozio può vendere determinati medicinali sia d'accordo o contro allora non è esattamente così la questione per come tu riposta e poi risponderò anche al fatto che sia o non sia d'accordo anche se sono molto di parte la risposta è quasi scontata penso che l'abbiano immaginata sì 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 allora diciamo che non è che la liberalizzazione riguarda il farmaco la liberalizzazione riguarda la struttura farmacia cioè quello che si sta facendo non è svincolare non è svincolare la vendita di un farmaco dalla presenza del farmacista si sta pensando di liberalizzare il numero di farmacie operanti sul territorio che è una cosa ben diversa perché come tu ben sai già dall'avvento delle parafarmacie comunque si è aumentato il numero di punti vendita pur con limite pur con limite della non commerciabilità in quell'attività di farmaci di prescrizione medica quindi già c'è stato un come dire una buona parte una buona fetta del mio e del mercato dei colleghi che è andata fuori dalla nostra farmacia nelle parafarmacie allora io sono per quanto riguarda la liberalizzazione selvaggia per quanto riguarda la liberalizzazione selvaggia non sono d'accordo perché mi permetto di porre da farmacista un punto di vista come dire anomalo allora è chiaro che la liberalizzazione delle farmacie cosa comporterebbe che qui a San Mango chi ha la laurea in farmacia perché comunque quello resterebbe un requisito in atto quindi un altro farmacista può liberamente aprirsi una, due, tre farmacie la come dire la contropartita che potrebbe derivare dalla liberalizzazione selvaggia sai quale potrebbe essere? il fatto che San Mango e D'Aquino incredibilmente potrebbe restare senza farmacia per il semplice fatto che per il semplice fatto che è vero il collega X la collega Y potrebbero pensare di aprire una farmacia al piano un altro al campo eccetera ma ti faccio notare che tutti coloro i quali hanno un'attività commerciale ambiscono al grosso centro ambendo al grosso centro è potenzialmente più facile secondo te che io mi fermi a San Mango a subire la concorrenza di due tre quattro cinque colleghi o è più facile che io prenda la mia attività commerciale e mi sposti su Corso Mazzini a Cosenza per dirti un po' certo certo è logico quindi attenzione perché il numero chiuso delle farmacie è per alcuni fonte di inimmaginabili guadagni per altri è un minimo di tutela e anche un piccolo vincolo per garantire un servizio in posti disagiati quindi non dico né di essere favorevole né di essere contrario alla fine credo che si possano innescare dei fenomeni di migrazione delle attività commerciali verso centri più grossi va bene ormai il tempo che avevamo a nostra disposizione è scaduto ti lascio a te per vi saluti che così poi li faccio io alla fine se vuoi salutare qualcuno io saluto indistintamente tutti gli ascoltatori di sanmangoradio.net della tv e ti ripeto ancora grazie per avermi ecco desiderato come ospite stasera qui grazie carino è stato un piacere averti qui con noi io mi avvio ormai ai saluti finali ringrazio il dottore Triminini per la possibilità che ha dato a me e all'associazione di continuare a collaborare con la sua farmacia vi ricordo ancora che si è appena conclusa la seconda edizione della prevenzione della pressione arteriosa quindi siamo sempre avanti sul canale di prevenzione gli ultimi saluti perdona mi ti interrompo perché colgo l'occasione di essere in una meravigliosa radio per dire quando vuoi organizziamo la terza va benissimo quindi noi prendiamo la palla al balzo quindi già segniamo la terza data quindi saluto tutti saluti i componenti della radio da chi fa le riprese al proprietario ricordo che la puntata è stata rimandata in onda da sanmangoradio.net e la potrete vedere sul canale digitale traverso 687 di MSTV alla prossima puntata ormai abbiamo preso l'abitudine di non svelare più l'ospite quindi vi aspettiamo numerosi alla prossima puntata un abbraccio da parte mia e dal dottore Trimini alla prossima buona serata a tutti grazie grazie